E arrivò il giorno di una delle gare più prestigiose del panorama internazionale di Il 47esimo trofeo Buffoni, una sinergia tra Montignoso e Forte De Marmi per dare uno spettacolo di tutto rispetto in quella che è una gara che nell'Albodoro annovera sicuri corridori che poi saranno protagonisti anche nel mondo del professionismo 196 gli atleti al via, un lavoro di limatura incredibile da parte degli organizzatori della Buffoni per portare 50 formazioni al via, 4 al massimo i corridori per ogni formazione in modo da creare un lotto di partenti che forse non ha uguali nel mondo Il giorno prima però giustamente un momento per riflettere perché se il trofeo Buffoni è quello che è adesso nel 2016 lo si deve anche a chi ci ha creduto qualche anno fa e quindi una deposizione di fiori a Francesco e a Torino Buffoni e anche un ricordo per Piero del Giudice ideatore del trofeo Buffoni, una rappresentativa delle formazioni del comprensorio dove proprio si svolge il trofeo Buffoni hanno accompagnato appunto una delegazione dove rappresentano anche le amministrazioni comunali di Forte dei Marmi e di Montignoso per ricordare appunto queste figure che sono state anche loro lungimiranti al loro tempo nel creare questa gara per gli Juniors che adesso sicuramente è una delle principali a livello internazionale basta pensare appunto al lotto dei partenti mattinata bella impegnativa per gli organizzatori e gli sportivi che hanno visto sfilare praticamente 200 ragazzi di fronte a loro e allora tanto per dare una veloce idea di quello che è il trofeo Buffoni andiamo a ricordare anche se sarà un elenco un po' lungo ma ne vale veramente la pena le squadre che saranno al via ha aperto le iscrizioni la formazione che annovera il campione italiano e quindi sarà contraddistinto dal dorsale numero uno Mattia Bevilacqua il team Franco Ballerini la nazionale slovena con Tadej Pogacare il vincitore lo vediamo proprio inquadrato dell'Unigiana la nazionale del Kazakistan, la All Sports la nazionale svizzera con Mark Irschi che è sicuramente uno di quegli atleti da tenere d'occhio per il suo palmarès in questa stagione la rappresentativa ticinese quella delle Busch Dugon la rappresentativa tedesca del Baden quella delle Alpe Marittime la squadra olandese della Willebrod la Zappi Racing Team la nazionale bulgara la ciclistica rostese la Vigor Cycling Team l'Esperia Petalo la società ciclistica Capriolo la Biassono la Feralpi la società ciclistica Cene il Vulcano la Biringhello la GB Junior Team la Pasta Sgambaro l'Industria Forniture Moro la società ciclisti Padovani la Work Service Liotto la Libertas Scorze la Contri Autozai la Usonia Pescantina la Borgo Molino Rinascita Ormelle la Cyber Team Breganze il Team Danieli la Fontana Fredda la ciclistica Bordighera l'Unione Ciclistica Casano la San Carlese la Sidermech Fratelli Vitali la Gubbio Ciclismo Mocaiana la Secom Forno Pioppi la Fonte Collina il Team Coratti il Pedale il Sant'Egidiese la Convertini Junior Team lo Stabia Ciclismo la New Project Team la Bessi di Calenzano il Team Unikesh Cipriano e Gestri la Romagnano Guerciotti la Cinquale la Polisportiva Monsumanese nelle prime immagini mentre vediamo anche il direttore di organizzazione Raffaele Babini insieme al sedaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e quello di Forte dei Marmi Umberto Buratti avvicinarsi al momento della partenza ufficiale e dicevamo appunto da questo rapide leggo e dalle immagini che abbiamo visto abbiamo anche l'idea della qualità dei partenti erano presenti i campioni nazionali regionali campioni nazionali su pista campioni mondiali su pista veramente non rischiamo di essere smentiti la creme della creme a questo 47esimo trofeo Buffoni ci stiamo avvicinando al chilometro zero questo è il tratto di trasferimento che porterà gli atleti appunto all'altezza del chilometro zero e non è un posto a caso questo perché è proprio all'altezza della linea gotica infatti l'AMPI l'associazione nazionale dei partigiani italiani è vicina all'organizzazione del trofeo Buffoni e a fine giornata saranno loro che consegneranno la maglia bianca al miglior giovane appunto al termine della gara ovviamente presenti anche rappresentanti da parte della federazione e quindi adesso è veramente tutto pronto per la partenza dopo un attimo anche di raccoglimento con la benedizione con tutti i campioni più rappresentativi leggermente avvantaggiati rispetto agli altri atleti però poi è il momento di partire quindi partenza ufficiale avvenuta in questo istante la prima parte ovviamente sarà quella con il circuito della Versilia dove sarà assegnata la maglia azzurra media still circuito della Versilia mentre la seconda parte sarà quella invece che vedrà il circuito della Fortezza con il Gran Premio della Montagna da ripetere per sei volte quindi una bella commissione tra una prima parte veloce e piareggiante e la seconda parte molto più impegnativa con la salita della Fortezza una sinergia l'abbiamo anche ricordata tra l'amministrazione comunale di Montignoso e quella di Forte dei Marmi che sta dando buoni frutti e quindi molto probabilmente continuerà anche nel futuro adesso stiamo vedendo proprio i primi chilometri interlocutori e già da queste immagini vediamo che l'avvio è decisamente veloce sicuramente la strada lo permette tutto appunto il circuito della Versilia nella zona di Forte dei Marmi e quindi è agevola anche questo tipo di condotta però sicuramente i ragazzi che hanno preso il via sono subito partiti in modo molto molto convinto anche la carovana pubblicitaria per quanto riguarda questo 47esimo trofeo buffoni e questo appunto è il passaggio uno dei passaggi in pianura e si è formata una fuga di 11 atleti al comando e quindi al comando abbiamo Matteo Donegà della San Carlese Robin Fouadevaux della Nazionale Svizzera per la GB Junior Team Luca Rastelli e Stefano Baffi poi Lucas Baldinger per la Baden per la rappresentativa tedesca Nikita Sokolov per il Kazakistan Samuele Zoccarato della Pasta Sgambaro Federico Molini della Monsumanese Nick Cemazar della Slovenia Niccolò Daldin della Cyber Team e Filippo Bottine della Ciclisti Padovani questi gli 11 atleti che si trovano al comando all'ultimo rilevamento tempi 30 secondi il vantaggio di questi atleti nei confronti del gruppo che sta inseguendo compatto ricordavamo poco fa appunto che questa prima parte di gara è denominata circuito della Versilia e viene assegnata una maglia a chi si aggiudica questo particolare circuito quella appunto offerta dalla Media Steel e ve lo annunciamo già colui che andrà a vincere proprio la maglia Media Steel sarà proprio il corridore sloveno Nick Cemazar che quindi già quando siamo praticamente a metà gara ha già in carniere una maglia da poter sfoggiare perché come nelle grandi tradizioni anche in questa gara ci sono varie maglie da assegnare abbiamo ricordato quella bianca dell'Ampi questa appunto la maglia azzurra Media Steel quella del circuito della Versilia poi nel corso ovviamente della nostra cronaca andremo a ricordarvi anche altre maglie ovviamente anche quella del vincitore eccolo qua Nick Cemazar per la nazionale slovena che appunto si porta a fare il suo turno adesso è la volta di Federico Molini per la polisportiva monsumanese buono l'accordo tra questi atleti al comando ricordiamo sono 11 gli atleti al comando e quindi è facile poter trovare un accordo e sviluppare una bella velocità cercando di non come dire di non sprenersi troppo come ho detto questa è la prima parte quella un po' più semplice della gara perché poi si comincia con la parte della fortezza con il circuito della fortezza con i sei passaggi al Gran Premio della montagna e quindi sicuramente i valori in campo andranno a cambiare una cosa però che è da far notare è che appunto grazie alla come dire alla volere degli organizzatori ogni formazione può schierare al massimo 4 atleti questo perché perché almeno si dà la possibilità di poter partecipare a più squadre possibili e questo però ha anche un rovescio della medaglia perché in 4 atleti per formazione è molto più difficile tenere chiusa una corsa a poter controllare o andare in questo caso magari a recuperare una fuga di 11 che sta aumentando il loro vantaggio sulla testa della corsa infatti è già salito a un minuto e 30 secondi il vantaggio per questi atleti che vediamo inquadrati nei confronti del gruppo che per il momento sembra almeno in parte si stia come dire disinteressando dell'azione che stanno appunto che sta avvenendo sulla testa della corsa grande pubblico fin dall'inizio fin dal circuito della Versilia per questa gara grande pubblico lungo la strada sia appunto nel tratto pianeggiante che in quello che poi avrebbe visto il passaggio al Gran Premio della Fortezza e quindi adesso ormai sta per terminare la prima parte di gara e infatti queste immagini dall'alto ci fanno appunto vedere la fortezza di Montignoso e quindi ci fanno capire che ormai sta per iniziare la seconda parte quella che un po' tutti aspettano anche perché la salita è molto vicina all'arrivo gli atleti non transiteranno mai sotto la linea d'arrivo se non per la parte finale e comunque rimanendo nelle prime rampe della salita e che sono queste praticamente dicevamo rimanendo nelle prime parti della salita è possibile poi comunque spostarsi sull'arrivo e vedere anche l'arrivo quindi anche a livello logistico come dire è una visione molto intelligente da parte degli organizzatori che possono godere veramente di uno scenario impareggiabile per la loro gara circuito della fortezza quindi che mette in palio la maglia fucsia traguardo volante circuito della fortezza che è offerta dal bar Gabrielli e poi ovviamente la maglia verde quella del il ciclista per i gran premi della montagna e quindi quando siamo al primo passaggio dalla salita della fortezza mancano cinque giri alla conclusione e gli undici atleti che vi avevamo ricordato poco fa si sono selezionati perché sono rimasti in sei al comando con il dorsale numero dieci lo riconosciamo sulla testa Nikita Sokolova della nazionale della Kazakistan poi è rimasto al comando con il dorsale ottantasei Stefano Baffi della GB Junior Team con il numero novanta Samuele Zocrato della pasta Sgambaro con il dorsale centoquarantuno Matteo Donega della San Carlese con il diciassette Robin Fodevo della Svizzera e con il dorsale ottantasette l'altro esponente della GB Luca Rastelli quindi una GB Junior Team che può contare sicuramente sulla superiorità numerica visto che appunto sia Baffi che Rastelli e adesso è proprio Baffi che passa a fare l'andatura dopo aver recuperato Sokolov che si era leggermente avvantaggiato nei confronti dei compagni di avventura quindi quando siamo al primo passaggio dalla salita della fortezza abbiamo sei atleti al comando e ovviamente coloro che facevano parte della fuga si sono attardati rispetto a questi e alcuni di loro almeno veleggiano ancora tra il gruppo e la fuga come infatti stiamo vedendo con le nostre immagini infatti gli immediati inseguitori quando mai siamo tornati in pianura al termine del primo passaggio dalla salita questi sono i due immediati inseguitori ovvero Federico Molini eccolo qua della polisportiva monsumanese e insieme a lui abbiamo un altro atleta con il dorsale 33 è Lucas Baldinger della rappresentativa tedesca del Baden eccoli qua i due immediati inseguitori che sono segnalati a una cinquantina già secondi di ritardo dalla testa della corsa alle spalle il gruppo ha ripreso invece tutti gli altri controattaccanti e quindi è compatto appunto alle spalle dei sei atleti al comando siamo nuovamente nel passaggio in salita all'inizio della salita con il gruppo quando mancano quattro giri alla conclusione Molini e l'altro atleta quello tedesco Baldinger sono stati recuperati dal gruppo quindi la situazione adesso vede sei atleti al comando e il gruppo questo che vediamo inquadrato che è compatto alle spalle ad inseguire ha cominciato a recuperare il gruppo adesso nei confronti dei sei atleti al comando perché adesso il ritardo del gruppo è più o meno sul minuto e trenta secondi quindi si è reso conto il gruppo che non si può lasciare troppo spazio a questi sei atleti perché comunque stanno andando avanti di comune accordo la velocità che sviluppano è di tutto rispetto quindi devono cercare di cominciare almeno a recuperare il loro distacco dalla testa della corsa e questa immagine ci fa vedere comunque che il gruppo questo secondo passaggio sulla salita della fortezza lo ha preso veramente veramente molto veloce torniamo adesso sulla testa della corsa eccoli qua i sei atleti al comando terminato quindi anche questo giro con loro adesso andremo ad affrontare il terzo passaggio della salita dal Gran Premo della montagna della fortezza eccolo qua Matteo Donegà della San Carlese a fare l'andatura sulla testa della corsa sicuramente uno dei più attivi sulla testa ha chiesto il cambio ma non se l'ha reso conto che alla sua ruota non c'era rimasto più nessuno si comincia a sentire un po' di stanchezza forse sulla testa forse comincia a venir meno un po' l'accordo comunque la GB può contare sempre sui due atleti Rastelli e Baffi e quindi ho un bel punto di appoggio dicevamo appunto adesso andremo ad affrontare per la terza volta la salita della fortezza poco prima dell'inizio della salita c'è il traguardo volante Bar Gabrielli e è proprio questo traguardo volante che tra pochi istanti vedremo che assegna la maglia del circuito della fortezza ricordiamo che appunto questo sarà il rettilino che percorreranno gli atleti anche nel finale a breve ci sarà una svolta a destra su un piccolo ponte eccolo qua il traguardo volante Bar Gabrielli intanto a breve diciamo ci sarà una svolta a destra eccola qua che immette i ragazzi verso il circuito della fortezza in un certo senso mentre nel finale non affronteranno questa svolta a destra ma andranno diritti proprio verso l'arrivo l'arrivo è più o meno a due o trecento metri rispetto a questa svolta questo è il motivo per cui anche tante persone sono proprio come dire raggruppate in questo tratto dicevamo terzo passaggio sul Gran Premio della Montagna che servirà per affrontare per assegnare la maglia del Gran Premio della Montagna che è poso di fronte al ristorante da pie continuano comunque ad andare avanti i sei atleti al comando anche se sembra che sia venendo un po' meno l'accordo tra questi atleti Sokolov si mantiene in terza ruota di questo drappello che si è selezionato infatti sono rimasti in tre al comando anche se per il momento i distacchi restano veramente minimi eccolo qua Nikita Sokolov della Nazionale del Kazakistan che sta comunque provando a rimanere agganciato come dire al treno dei migliori infatti come dire si è disunito questo drappello adesso cerchiamo di capire anche chi sono gli atleti che compongono la testa della corsa mentre comunque ci piace sottolineare veramente la grande quantità di persone che sono presenti proprio lungo tutto il circuito ce la fa Sokolov a come dire riagganciarsi ai due atleti che si erano avvantaggiati nei confronti nei suoi confronti e quindi abbiamo tre atleti al comando e abbiamo Matteo Donegà della San Carlese insieme a Stefano Baffi della GB Junior Team e ovviamente Nikita Sokolov che l'avevamo ampiamente riconosciuto è sempre Donegà a fare l'andatura adesso è la volta di Stefano Baffi che passa in prima posizione mentre Sokolov si mantiene sempre in terza ruota forse deve un po' recuperare lo sforzo che ha fatto per cercare di rimanere agganciato al treno dei migliori comunque sia è questa l'esatto ordine con il quale stanno transitando Baffi Donegà e Sokolov con Baffi che sembra un pochino più in condizione rispetto agli altri sembra poter riuscire a fare la differenza prende un metro un paio di metri non di più di vantaggio ma Donegà non riesce a mantenersi in sua ruota e anche Sokolov sembra leggermente in difficoltà adesso prova ad alzarsi sui pedali e va leggermente ad aumentare il vantaggio di Baffi sulla testa quindi con la nostra telecamera ci riportiamo sull'atleta solitario al comando eccolo qua Stefano Baffi della GB Junior Team che adesso rimane solitario al comando e quindi adesso si sta avvicinando al Gran Premio della Montagna che come detto ovviamente ci passano tutte le volte per assegnare anche la maglia verde per appunto chi sarà il primo in questa particolare classifica un Gran Premio della Montagna punteggio si assegnano punte i primi tre classificati a ogni passaggio e a termine gara ovviamente viene stilata la classifica bella azione comunque quella di Stefano Baffi che sta insistendo nella sua azione adesso siamo nel tratto di discesa è complice probabilmente il tratto di discesa Matteo Donegà ce la fa a riportarsi su Stefano Baffi e quindi diventano due gli atleti al comando nel tratto di pianura Donegà dà il suo contributo e quindi adesso è proprio lui che sta facendo l'andatura poi passa proprio Baffi a fare il suo turno sulla testa sembra buono l'accordo tra i due atleti al comando e quindi sicuramente si rendono conto che è il momento di insistere e di provare a cercare di mettere più distanza possibile tra loro e chi sta inseguendo perché comunque loro si trovano al comando e quindi come dire già hanno una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri stiamo ormai all'inizio del tratto di salita mancano due giri alla conclusione sono sempre al comando Donegà e Baffi l'esatto ordine con il quale sono transitati all'inseguimento che di fatto anticipa di poco il gruppo è transitato con il dorsale 89 Matteo Zurlo della pasta Sgambaro che appunto ha una quarantina di secondi di ritardo nei confronti dei due atleti al comando e questo è il gruppo appunto o almeno l'avanguardia gruppo che sta provando ad inseguire chi si trova sulla testa è diminuito il ritardo del gruppo nei confronti della testa della corsa però comunque hanno sempre quei 45 secondi di vantaggio nei confronti di questi atleti che lo sottolineiamo ancora una volta ricordiamo al massimo le formazioni possono contare su quattro atleti è sicuramente molto più complicato poter gestire una corsa piuttosto che in una squadra molto più numerosa è evaso dal gruppo con il dorsale 121 Samuele Battistella della Cyber Team Breganze forse si è reso conto che non c'era troppo accordo tra gli atleti del gruppo e quindi prova da solo ad andare a recuperare chi gli si trova davanti e intanto recupera infatti quello zurlo che era evaso poco prima praticamente ai piedi della salita della fortezza eccolo qua appunto Battistella che recupera zurlo vedremo se decideranno di continuare di comune accordo oppure no e Battistella si porta al comando continua del proprio passo vedremo se zurlo riuscirà a mantenere il passo di Battistella quindi per il momento abbiamo due atleti al comando e due immediati inseguitori che sono segnalati a circa 40 secondi di ritardo continuano adesso Battistella una volta che si è riportato su zurlo si è posto decisamente a fare l'andatura adesso si alza sui pedali zurlo riesce comunque a mantenere il passo dell'atleta della cyber team e breganza sembra però un po' aumentare l'andatura Battistella e sembra perdere qualche metro proprio una questione di un metro poco più riesce in qualche modo a rimanere agganciato alla ruota di Battistella zurlo Battistella non si volta continua del proprio passo e zurlo cerca in qualche modo di rimanere agganciato ma se ne va Battistella quindi si alza sui pedali proprio sfruttando questo tornante e comincia ad aumentare il suo vantaggio nei confronti di zurlo quindi rimane solitario Battistella all'inseguimento dei due atleti al comando ovvero Baffi e Donegà siamo sempre nel tratto di salita ancora il penultimo passaggio ci sarà da fare ancora un altro passaggio sulla salita prima di poter poi non girare a destra ma tirare dritto verso l'arrivo si volta un attimo alla sua sinistra Battistella per capire la situazione si rende conto che zurlo si allontana sempre di più e quindi continua ad insistere nella propria azione e cerca di mettere nel mirino i due atleti che si trovano al comando eccolo qua Samuele Battistella che sicuramente sta attraversando un ottimo periodo di forma visto che 24 ore prima ha vinto il titolo regionale a cronometro 8 le vittorie all'attivo per lui in questa stagione qui siamo nel tratto di discesa e stiamo sempre con Battistella perché si sta decisamente avvicinando l'atleta della Cyber Team Breganza ai due atleti al comando eccole qua infatti proprio Baffi e Donegà e quindi proprio nel tratto di discesa diventano tre gli atleti al comando perché possiamo dire sui primi due attaccanti di giornata proprio Baffi e Donegà si riporta Samuele Battistella della Cyber Team Breganza e fa sì che diventino tre gli atleti che compongono la testa della corsa di questo 47esimo trofeo Buffoni quindi non ricordiamo adesso che gli atleti devono ancora affrontare una volta la salita e poi dovranno ovviamente terminare tutto il giro per arrivare fin sotto all'arrivo eccolo qua il terzetto quando siamo nel tratto di pianura oddio di finire la pianura è un po' improprio perché comunque questo circuito della fortezza questa seconda parte è un circuito che non lascia molto spazio per il recupero perché o si sale o si scende questo forse è proprio l'unico tratto che permette di poter in un certo in un certo senso rifiatare un po' ma non si può star troppo a rilassarsi perché comunque gli inseguitori si stanno avvicinando siamo nella parte conclusiva soprattutto in una gara di juniores non c'è mai un attimo di relax quindi bisogna sempre stare molto attenti e Donegà come aveva dimostrato anche nei giri precedenti quando si tratta di stare in pianura a tirare è sicuramente uno dei più attivi e infatti eccolo qua la tetta della San Carlese che adesso chiede il cambio a Battistella che non si tira indietro e si porta a fare l'andatura sulla testa di questo terzetto dove in ultima ruota ovviamente è sempre presente Stefano Baffi l'atleta della GB Junior Team siamo ormai in vista della svolta a destra dove per l'ultima volta inizierà il tratto di salita verso la fortezza sempre tre atleti al comando e vedete proprio la cornice di pubblico che accompagna il passaggio anche il passaggio dal traguardo volante di fronte al bar Gabrielli che assegna proprio la maglia del circuito della fortezza e questa è proprio la svolta a destra che affronteranno per l'ultima volta uno spettacolo le due ali di folla che accompagnano gli atleti sicuramente è complice una bellissima giornata ma sicuramente è complice il prestigio della gara ha fatto sì che ci sia tanta gente e hanno affrontato subito queste prime rampe della salita in modo decisamente alto è sempre Battistella che sta facendo l'andatura con Baffi in seconda posizione e Donegà in terza Donegà accusa un attimo la fatica e quindi restano in due al comando Battistella in prima posizione e Baffi in seconda con Baffi che adesso si alza sui pedali per cercare di rimanere agganciato alla ruota di Battistella praticamente in questo tratto nel giro precedente Battistella ha lasciato la compagnia del gruppo e si è riportato sulla testa adesso sembra non può controllarsi anche i due atleti al comando perché comunque si avviciniamo alla conclusione questo è l'ultimo passaggio sulla salita della fortezza per questo quarantasettesimo trofeo Buffoni e quindi oltre a calcolare le forze in gioco c'entra anche un po' di tattica per questi ragazzi ricordiamo che la gara era seguita anche dal CT della Nazionale degli Juniors De Candido che ovviamente sta facendo la nazionale per i mondiali a Doha in Qatar ovviamente come dire il circuito del Buffoni è sicuramente più impegnativo rispetto a quello che sarà il percorso del mondiale però la distanza dei 135 km e il confronto tra gli atleti praticamente di tutta Europa se non del mondo è un panorama importante al quale il CT De Candido non poteva sicuramente mancare prova a forzare i tempi Battistella ma Buffy forse più con la grinta che non con la forza riesce a mantenersi agganciato alla ruota dell'atleta della Cyber Team Breganze Buffy è fuori praticamente da tutta la corsa perché già nella fuga degli undici che si era sviluppata nella prima parte della gara sul circuito della Versilia era davanti e infatti adesso sembra accusare il colpo Buffy e rimane solitario al comando Battistella rimane solitario al comando l'atleta della Cyber Team a Breganze come detto Samuele Battistella eccolo qua che si ritrova tutto solo al comando del 47esimo trofeo Buffoni cerca di dosare le forze a questo punto ancora un tratto di salita e poi potrà scendere una discesa che però è piuttosto tecnica quella discesa che praticamente nella tornata precedente gli aveva permesso di ricongiungersi a due atleti al comando adesso invece magari dovrà stare attento a chi arriva alle sue spalle per cercare di gestire questo finale eccolo qua Samuele Battistella che tutto sommato dimostra ancora di avere un bel passo e siamo proprio al passaggio dal Gran Premio della Montagna che ovviamente in questo passaggio è lui il primo a transitare se lo aggiudica lui poi più tardi ovviamente vi daremo conto di tutte le maglie che sono state assegnate in questa giornata un tratto di falso piano perché una volta che è terminata la salita non inizia subito la discesa c'è un tratto di falso piano e poi c'è la discesa noi però ovviamente anche per sicurezza ci siamo portati in pianura con Samuele Battistella e Baffi l'atleta della GB viene segnalato in recupero nei confronti di Battistella quindi ha sfruttato il tratto di discesa l'atleta della GB che si sta avvicinando diventato Battistella sembra accusare Krampi si è messo proprio la mano sulla gamba sinistra della teta della Cyber Team Brigante adesso probabilmente cercherà di mettere il rapporto più agile possibile per non far mettere ancora più acido lattico nei suoi muscoli e questo è proprio il simbolo che ha dato tutto Samuele Battistella in questa gara e vedremo se Baffi ce la farà a riportarsi su di lui si volta quindi probabilmente sa che Baffi si sta avvicinando e continua ancora a toccarsi la mano sinistra sono veramente Krampi per il portacolori della Cyber Team Brigante che cerca a questo punto di gestirsi nel finale però si sta avvicinando Baffi si sta avvicinando Stefano Baffi della GP Junior Team quindi a breve potremmo avere due atleti al comando quando mancano due chilometri alla conclusione eccolo qua Baffi ce l'ha fatta l'atleta della GB sicuramente uno dei più combattivi quest'oggi perché è stato praticamente in fuga per tutta la giornata e si forma una coppia al comando quando mancano meno di due chilometri alla conclusione abbiamo al comando appunto Samuele Battistella della Cyber Team Breganze e in seconda posizione Stefano Baffi ovviamente della GB Junior Team e adesso è anche un po' una lotta di nervi tra questi due atleti che sono già all'interno dell'abitato di Montignoso come detto adesso procederanno dritti non gireranno a destra verso la svolta della salita perché adesso sarà veramente la conclusione e sono questi due gli atleti al comando ormai siamo in vista anche del triangolo rosso dell'ultimo chilometro e quindi vedremo se i due aspetteranno di giocarsela nel finale in una volata a due che è sicuramente uno dei finali più difficili da dover gestire seppure almeno uno di loro proverà la sortita proprio in vista degli ultimi centinaia di metri non cambiano le posizioni sulla testa Battistella in prima posizione e Buffy in seconda Battistella ovviamente non si fida di chi ha alle sue spalle e sicuramente Buffy ha una posizione più agevole per questo sprint a due entrambi si alzano sui pedali entrambi si alzano sui pedali e comincia ad essere davvero una lotta di nervi questa tra i due atleti al comando noi ovviamente abbiamo anche la telecamera fissa sul traguardo che ci permette di vedere anche il retellino finale dove arriveranno i due atleti quindi possiamo permetterci anche di seguire per un bel tratto questi atleti anche per vedere come decidono di gestire il finale questo è il luogo della svolta poco fino al giro precedente a verso invece si procede diritto ultimi 400 metri e non cambiano le posizioni Battistella in prima ruota e Baffi in seconda e vedremo appunto quello che sarà l'epilogo del 47esimo trofeo Buffoni una gara nella quale vale veramente la pena poter iscrivere l'albo d'oro siamo ormai in vista dell'ultima semicurva che mette i ragazzi nel rettilineo finale noi ovviamente ci fermiamo con la nostra telecamera ma abbiamo la nostra telecamera fissa ed è Samuele Battistella che è sempre al comando quindi Baffi veramente non ne aveva veramente più e quindi riesce a tagliare il traguardo a braccia alzate Samuele Battistella della Cyber Team Breganza seconda posizione per Stefano Baffi della GB Junior Team che è arrivato a tre secondi di ritardo in terza posizione era segnalato Donegà come immediato inseguitore ed è sempre la tetta della San Carlese infatti che si sta come dire avvicinando al passaggio sul traguardo eccolo qua anche Donegà che riceve gli applausi del pubblico anche lui insieme a Baffi è stato lungamente in fuga fin dall'inizio di questo 47esimo trofeo Buffoni quindi taglia il traguardo in terza posizione Matteo Donegà che arriva a 39 secondi di ritardo da il vincitore Samuele Battistella adesso aspettiamo ancora l'arrivo degli altri atleti per vedere come si completerà l'ordine di arrivo di questa gara prestigiosissima una maglia del team Franco Ballerini adesso davanti a tutte le altre Andrea Innocenti che va a cogliere quindi la quarta posizione arriva a 57 secondi di ritardo quinta posizione per Mark Irschi della Nazionale Svizzera sesto a 1 minuto e 05 Lars Van de Berg e poi arrivano in ottava posizione eccoli qua gli atleti che via via stanno arrivando ottavo Luca Mozzato della Contra Tozzai nono Stefano Aldani della GB Junior Team e decimo Fabio Mazzucco della Borgomolino rinascita Ormele veramente un successo anche per quanto riguarda l'ordine di arrivo una rapida scorsa fa capire veramente la qualità basta contare che Irschi il quinto classificato è il vice campione europeo a crono il campione nazionale della sua nazione della Svizzera e a novera tra il suo palmarès numerose gare internazionali e questo ci dà la possibilità questa immagine ci dà la possibilità di rivedere l'arrivo a braccia alzate di Samuele Battistella al cui andrà la maglia gialla scavazione marmi in quanto vincitore del trofeo Buffoni eccolo qua Samuele Battistella che davvero può cogliere questa grandissima soddisfazione e questo è il podio del 47esimo trofeo Buffoni adesso appunto vedremo tutte le maglie ecco qua la maglia gialla escavazione marmi per il vincitore del trofeo Buffoni poi sarà la volta per Nikita Sokolov di indossare la maglia verde il ciclista come vincitore della classifica dei gran premi della montagna poi è la volta per Nik Cemazar della nazionale slovena come vincitore della maglia azzurra media stil circuito della Versilia marca Irci per la nazionale svizzera la maglia rossa zenit costruzioni al miglior straniero e poi è la volta di Andrea Innocenti con la maglia bianca per il team Franco Ballerini la maglia bianca ampi di Montignoso quale miglior giovane in questo 47esimo trofeo Buffoni maglia Fucsia Bar Gabrielli circuito della Fortezza per Samuele Zoccarato queste tutte le maglie che sono state assegnate e quindi adesso ovviamente è il momento dei saluti con tutte le maglie che sono state assegnate ovviamente è un parterre de rois a seguire queste operazioni con autorità e amministrazioni amministratori che hanno reso possibile questa manifestazione adesso è il momento della consegna del 47esimo trofeo Buffoni a Samuele Battistella dalle mani di Fabio del Giudice e noi con queste immagini vi salutiamo vi ringraziamo per l'attenzione a risentirci alla prossima occasione Samuele Battistella più forte anche dei crampi beh più forte dei crampi ho sfruttato l'agilità dei rapporti proprio per perché non mi saltassero gli ultimi metri infatti gli ultimi dieci chilometri ho mollato un po' non sono sempre andato a tutta così sono riuscito un po' a salvare la gamba e usarla fino alla fine Stefano Baffi un secondo posto che ti soddisfa quest'oggi al Buffoni sì mi soddisfa molto perché sinceramente non pensavo neanche di arrivare alla fine gara ho deciso ho deciso di anticipare perché sapevo che c'era in gruppo gente molto più forte di me in salita come Battistella che ha dimostrato tutte le sue qualità e sono molto soddisfatto di questo mio risultato Matteo Donegao una terza posizione tanta corsa per te in fuga sì io e Baffi abbiamo deciso di partire in pianura con l'intento di fare una fuga e speravamo di arrivare siamo arrivati e sono soddisfatto sull'ultima salita non sono riuscito a stare con Battistella che aveva una marcia in più ma va bene così Gianni Lorenzetti sindaco di Montignoso uno spettacolo veramente forse ancora più inaspettato quest'oggi assolutamente sì poi coronato da una giornata bellissima di sole di limpidezza una giornata di sport una giornata piena di gioia ho visto sono stato con il comandante della potenzia municipale a fare un giro lungo le strade assieme anche al presidente del buffone Fabio Del Giudice è veramente uno spettacolo che fa accapponare la pelle ha fatto accapponare la pelle complimenti Fabio Del Giudice i vostri sforzi possiamo dire che quest'oggi sono stati ripagati tante persone lungo il percorso una corsa spettacolare e poi diciamo un po' il vincitore che a Fabio un po' piaceva io ho coronato un sogno oggi guarda prima della partenza ovviamente non dico mai per chi tifo però questo qui è un ragazzino che veramente ci tenevo basta che ti dico che quando c'è stata qui una corsa a massa lui era a mangiare a casa mia e quindi insomma oltre a essere contento per il successo del trofeo Ufoni sono contento che ha vinto Samuella Battistella anche perché è un degno rappresentante dei colori italiani è nazzurro ha fatto già sette o otto vittorie quest'anno ieri ha vinto il campionato crono regionale quindi ecco siamo onorati che abbia vinto questo ragazzo ma soprattutto sono contento perché è stata un'edizione memorabile del trofeo Ufoni 200 partenti 50 squadre 12 nazionali straniere quindi a livello di partecipazione non possiamo chiedere di più mi havo soltanto di poter mantenere questi questi numeri ovviamente un grazie agli sportivi che erano numerosi sulla salita della Fortessa così come sul circuito a mare e ovviamente un grazie oltre che agli sportivi a questi amministratori Andrea Gabrielli e il sindaco Gianno Renzetti che assogge ovviamente non sono qua presenti ma c'erano oggi anche agli amministratori di Forte dei Marmi che insieme questi due comuni hanno unito queste sinergie e stiamo con il trofeo Buffoni creando un ottimo evento e ci ha raggiunto quindi Andrea Gabrielli assessore ai lavori pubblici uno sforzo della vostra amministrazione comunale di concerto con quella di Forte dei Marmi che insieme agli organizzatori del trofeo Buffoni oggi ha dato veramente i suoi frutti certo certo non ci ha comunato a Forte dei Marmi perché le potenzialità sono nettamente diverse noi per poter dare il meglio delle nostre strade dei nostri posti a questa organizzazione che è impeccabile abbiamo fatto i sforzi al massimo siamo riusciti ad ottenere un panorama delle strade abbastanza bello pulito i buchi tappati i buchi perché non si può fare gli asfalti nuovi però insomma abbiamo dato tutto quello che potevamo per far sì che il Buffoni sia una corsa degna del nome e penso che di essere riuscito a fare questo favore ai nostri amici del gruppo Buffoni ciclista Buffoni a fare questo Grazie a tutti Grazie a tutti